Per la Serie A si conclude sul risultato di 5 a 3 la partita tra M97 e Alicca Mastice. Siamo con il capitano Paolo Scuderi e con l'uomo partita Carlo Garozzo. Iniziamo con l'uomo partita. Carlo è stata una partita abbastanza controllata nel primo tempo della vostra squadra, tu sei riuscito a fare un ottimo assist servendo Tribulato e due splendidi gol nel secondo tempo che sono valsi tre punti. Sì, diciamo che all'inizio la partita si era messa bene per noi, a un certo punto tornati al secondo tempo ci siamo adattati al loro gioco subendo due gol che potevano benissimo essere evitati e poi anche con un po' di un pizzico di fortuna siamo riusciti a portarci sul pareggio e poi dopodiché noi eravamo superiori atleticamente, secondo me abbiamo avuto la meglio. Oggi sei stato molto bravo sia nella fase difensiva, non hai concesso granché al tuo avversario sulla fascia e poi comunque due ottimi tiri, una bella serpentina, assist a Tribulato, una bella prova. Un tuo commento sulla tua singola prova? Sì, penso sia stata buona, visto anche la giornata che era molto bella, quindi abbiamo approfittato anche per andare al mare. Tutto sommato sono riuscito a mettermi in clima partita e penso di aver fatto una buona prestazione. Ok, grazie Carlo. Passiamo al capitano Paolo Scuderi. Allora Paolo, la vostra squadra riesce a fare degli ottimi primi tempi e poi nei secondi tempi cala. Oggi fortunatamente siete riusciti a portare i tre punti a casa. Abbiamo sempre avuto finora la sindrome del secondo tempo e oggi era la sindrome del secondo tempo ed è stato però un mezzotempo, quindi la sindrome del mezzotempo. Dobbiamo cercare di limare queste ultime imprecisioni. Abbiamo iniziato la partita in maniera molto calma, giocavamo sempre palla a terra e quando noi giochiamo col cervello penso che poche squadre possono tenerci testa e quindi offriamo un bel gioco. Oggi era molto importante vincere perché poi il Librino Games stava vincendo contro l'Irama, quindi adesso siete presenti a due punti sull'Irama. Eh beh, io ho detto che, guarda, secondo me le squadre migliori del nostro girone sono sicuramente Irama e Librino Games. La Librino Games che noi abbiamo incontrato nella fase di andata, nell'andata, secondo me non è la vera Librino Games perché sono dei ragazzi che ci mettono tutto, mettono tutto in campo e penso abbiano avuto dei problemi quella volta. Sarà una bella partita contro di loro, sarà una bella partita contro l'Irama, io lo dico sempre, quando giochiamo con avversari alla nostra altezza siamo sempre felici di affrontarli, li affrontiamo al 100%, insomma, tranne nel secondo tempo. L'ultima domanda, preferisci giocare difensore centrale oppure regista? Guarda, preferisco giocare difensore centrale. Grazie, ti ringrazio per questa domanda e comunque volevo salutare Claudio Caponnetto e purtroppo si è infortunato la scorsa partita rompendosi il braccio deve operarsi e purtroppo lo perderemo per circa un mese e mezzo. Claudio è sicuramente più forte di me perché è il suo ruolo, però io farò del mio meglio. Oggi avevamo delle mancanze, mancava Andrea Regalino, Mirko Di Grazia e Ardizzone, quindi insomma abbiamo fatto del nostro meglio. Sicuramente la mancanza a centrocampo di Andrea Regalino è sempre importante, però penso che questa vittoria va a loro e a Claudio Caponnetto e un in bocca al lupo a tutti, a Claudio in particolare. In bocca al lupo anche alla tua squadra, grazie a Paolo Scuderi, all'uomo partita, Garozzo, Linalus.